Come tutti sapete, negli ultimi mesi più o meno tutte le istituzioni internazionali, ma anche i governi nazionali e anche gli analisti privati hanno dovuto ripiegare su se stessi per quanto riguarda le stime di crescita che si sono rivelate eccessivamente ottimistiche fino a pochi mesi fa. Questi invii che sono stati proseguiti, che sono stati continui negli ultimi tempi, suggeriscono non solo che la crescita si è dovuta spostare più in là nel tempo, ma che probabilmente alcune cause profonde della mancanza di crescita non sono ancora ben comprese da tutti noi.